un messaggio qualunque esso sia assume significati diversi a seconda di dell'uso che noi facciamo non solo della nostra voce ma delle parole che utilizziamo come vedremo questa sera delle mani lo sguardo il corpo e look e anche la cornice che c'è intorno a noi mai come in questo periodo è utile conoscere alcune alcuni trucchi alcuni barbatrucchi anche per essere più performanti quando facciamo una skype call per esempio o insomma una riunione via skype o semplicemente vogliamo lanciare un messaggio video utilizzando i nostri social e allora attenzione quello che c'è intorno attenzione a dove guardate anch'io non so adesso anzi ve lo spiego ogni tanto mi vedrete spostare lo sguardo ma perché ho un mega schermo davanti a me dove vedo tutte le slide dove sono le slide che vedete voi e lo schermo condiviso con voi quindi spesso il mio sguardo va dall'altra parte anche se cercherò il più possibile di mantenerlo su di voi e quanto siamo consapevoli di questi processi e come reagiamo anche cioè da un lato la nostra comunicazione quanto siamo consapevoli dall'altro è come reagiamo alla comunicazione che ci fanno le altre persone l'ho detto prima la comunicazione interazione non è soltanto io parlo voi ascoltate io parlo l'altra persona ascolta avrà dei pensieri avrà delle reazioni mi dirà delle cose avrà degli sguardi sarà distratto sarà attento sarà apatico oppure sarà coinvolto ecco in questo periodo sentiamo nei media telegiornali e quant'altro molte informazioni e la domanda anche un po polemica e informazione o sensazionalismo parole come paura morte malattia disastro allarme pandemia panico non fanno altro che aumentare effettivamente esattamente quelle parole lì sono vengono in qualche modo i frame vengono reintegrati continuamente e non fanno altro che aumentare le nostre effettivamente le nostre ansie le nostre paure e come agiamo noi come agiamo noi da leadership come come leader abbiamo una leadership propositiva quindi e quando parlo di leadership parlo anche di leadership in famiglia non soltanto in azienda e leader non sono solo i capi anzi leader e chiunque sappia guidare in qualche modo le altre persone siamo leader anche quando invitiamo i nostri amici per esempio a fare un web party facebook party per esempio pure siamo leader nel momento in cui invitiamo i nostri amici a fare una serata come questa anche in quel caso e cosa trasmettiamo ansia debolezza soprattutto con i nostri colleghi i nostri collaboratori in ambito professionale con parole come crisi preoccupazione difficoltà sforzo disastro problema non facciamo altro che andare di nuovo a girare un carico pesante su quello che già effettivamente stiamo vivendo che stiamo passando in questo periodo e come ci sentiamo come vedete stasera il discorso vira un po dallo speech perfetto ho voluto in qualche modo anche capire quello che sta succedendo intorno a noi bene la gestione dannosa della comunicazione di molti media purtroppo e della nostra stessa comunicazione e anche del dialogo interno che noi abbiamo con noi stessi genera paura conclusione incertezza e la paura si trasmette molto più velocemente di qualsiasi virus perché ci agita ancora di più e abbassa le nostre difese immunitarie e questo è estremamente importante se ci facciamo cogliere impreparati se il terreno e che il nostro corpo non è pronto non è energico non è non ha le difese immunitarie necessarie ma non vale solo per per il coronavirus questo vale per qualsiasi altro tipo di influenza ecco che la comunicazione che noi sentiamo con le nostre orecchie o che vediamo quindi per cui siamo in qualche modo passivi o facciamo a nostra volta con gli altri determina se siamo tranquilli o se siamo in preda al panico se riusciamo a ragionare o se andiamo in tilt se siamo ottimisti o negativi io non so voi ho visto scene che un po fanno anche sorridere perché dici ragioniamo un attimo su quello che sta succedendo vi racconto una scena che in realtà non è capitata a me ma è capitata al mio compagno me l'ha raccontata e sono rimasta un po così stava uscendo da un supermercato stava salendo in macchina sono avvicinate due persone che gli hanno detto è già entrato è già entrato cosa il virus è entrato al supermercato ve lo giuro mi hanno chiesto questa c'era una signora anziana vicino a lui e tutti e due si sono guardati come dire ma cosa stanno dicendo queste persone quindi significa che in qualche modo quello che sentiamo e quello che ci spaventa fa sì che alla fine andiamo veramente in tilt non ragioniamo più sulle cose normali dove deve essere entrato in un supermercato la situazione è quella che stiamo vivendo ma non è che c'è il virus con le zampette e le manine che ta 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 e il carrellò della spesa entra al supermercato allora occorre fare attenzione anche a quello che sentiamo attenzione alle parole che scegliamo online e offline con clienti collaboratori amici parenti perché nella nostra salute e anche del nostro futuro come dicevo prima alla fine tutto questo passa e raccogliamo quello che stiamo seminando anche dentro noi stessi nelle nostre stesse convinzioni nel nostro stesso stato di benessere psicofisico nel nostro stesso equilibrio non vuol dire non posso andare a correre e allora in grasso non è questo andiamo a lavorare su delle dinamiche molto più profonde io non sono un medico ma potete guardare ovunque chiedere sentire e mi risponderanno tutti così ma lo diceva già mia nonna che insomma quando ero piccola mi diceva dai su stai su così come anche le norme non ti non ti c'è tipo la mano davanti quando stanno ti esci ma anche quello io lo so da quando sono piccola e di non mettermi le mani in bocca diciamo che sono norme comportamentali che dovremmo adottare tutti i giorni e cosa fermiamo in tutto questo non aver paura l'italia non si ferma milano non si ferma vedete che sono di nuovo parole che evocano qualcosa di negativo non avere paura italia non si ferma quindi di nuovo la parola ferma è qualcosa che sta fermo il non tra l'altro va pure a bloccare la velocità dei processi cognitivi oppure molto meglio infatti l'ho scritto grande in verde tutto bene e di questo devo ringraziare massimo massimo ci sei massimo e senza microfono eccolo di questo devo ringraziare massimo ci sono perché questo tuo tutto bene io lo sai quando l'ho visto la prima volta telefonato te l'ho detto finalmente che figo tutto bene non li vedo tutti in webcam troppo possiamo fare un applauso a massimo perché questo funziona è un messaggio proattivo io vado avanti questi sono messaggi proattivi la situazione è la stessa la stessa manifestazione contro la guerra diceva ditemi che per la pace sentite come contro e guerra sono due parole che portano che tirano su pensieri negativi energie negative sono chiaramente uno è contro l'altro è guerra per la pace è la stessa cosa però sto lavorando su delle energie più proattive propositive positive io non sono per il pensiero positivo a tutti i costi sono per positiva sono per le azioni che possono portare effettivamente a qualcosa quanto sono potenti le affermazioni ora io ho giocato ho giocato a inventare un discorso di quelli che si sentono o che si potrebbero sentire in qualche azienda giusta osservazione primi hashtag per la situazione attuale sono un po troppo scocchiosi vero melania grazie forse una primissima fase avevano se insomma in effetti adesso in italia l'italia si è fermata e bisogna prenderne atto infatti andiamo avanti con un senso di speranza e positività verso il futuro melania cin cin quindi dicevo il potere delle affermazioni io ho inventato mi sono messa lì ho inventato una frase che poi poi tanto inventata perché ho captato ho sentito anche sentendo i miei clienti che mi dicevano ma non so cosa dire ai miei clienti perché qua è tutto fermo paura non so chissà cosa chissà dove andiamo a finire sentivo questi disagi questi tipi di di frasi e allora ho immaginato il titolare di un'azienda che decide di accendere la webcam come stasera fare un webinar dove invita tutti i suoi dipendenti collaboratori e dice una serie di cose che adesso vi leggo e parte così vi rubo qualche minuto per parlarvi della grave emergenza virus che stiamo cercando di affrontare tra mille difficoltà grave emergenza vi rubo qualche minuto ma se il titolare insomma non è rubare minuti stai facendo qualcosa per loro stiamo cercando di affrontare tra mille difficoltà sentite come sono ridondanti queste parole so che siete molto spaventati e turna anch'io sono in ansia per tutti i rischi che stiamo correndo di nuovo ancora e me ne trasmetto ancora un po di ansia mi piacerebbe dirvi che si risolverà presto ma ancora non si sa per quanto questa emergenza andrà avanti e non è che li stia tanto tranquillizzando però non preoccupatevi come se bastasse questo a non farli preoccupare ora il problema di nuovo la parola problema e far comunque sopravvivere la nostra azienda in modo che non diventi un completo disastro si qua lo so esagerato un po ci tocca lavorare da casa e provare a non fermarci lo solo esagerata un po è ovvio per anche per sdramatizzare spero di riuscire a farvi capire che l'unico modo per scongiurare che è l'unico modo per scongiurare la crisi intanto spero di riuscire a farvi capire significa che o non son capace io a fartelo capire e in effetti con questo discorso o repito scemi scemi loro che non capiscono ma vabbè questo è un altro argomento ecco perché vi chiedo lo sforzo di attrezzarvi ad essere per quanto possibile operativi la nostra azienda e qua il carico da 90 non si ferma voi vi fidate di un leader così è un leader questa persona sta portando i suoi collaboratori e questo vale per qualsiasi tipo di situazione contesto vale con i nostri figli vale con i colleghi vale con i clienti ma vale anche con la signora che incontrate ormai solo più al supermercato vale ovunque un discorso di questo genere non fa altro che aumentare la preoccupazione l'ansia l'incertezza per il futuro intanto c'è un c'è un una motivazione fisiologica e chimica la chimica delle nostre emozioni io lavoro molto sulla nel mio metodo oltre a lavorare sul sull'espressività vocale del corpo ho unito la memoria sensoriale ed emotiva è unito la chimica delle emozioni qua ne vediamo un assaggio perché secondo me era importante parlare di queste due di questi due ormoni in particolare che sono che occorre conoscere vasopressina contro ossitocina il questo discorso è un tipo di discorso che va a stimolare la vasopressina o adh che è l'ormone della paura questo ormone stimola la progressività e aumenta la sensazione di pericolo dolore costrizione rabbia negatività svantaggio avversione si porta presso anche eh il eh l'adrenalina la noradrenalina fa sì che la nostra agitazione a si si alzi magari anche eh con una lieve forma di mancanza di respiro per esempio magari tremiamo un po' di più per contro l'ossitocina che l'ormone dell'amore cosa fa con la sua azione di antiaggressività riduce la paura l'egoismo la diffidenza istintiva non solo stimola la fiducia in se stessi e negli altri perché l'ormone delle coccole è proprio l'ormone della mamma col bimbo l'ormone delle coccole e eh eh stimola anche il desiderio di andare verso qualcosa di bello e appagante ci porta verso il piacere la gioia la simpatia la positività il divertimento nonostante la situazione impegnativa estremamente impegnativa che stiamo vivendo in questo momento ma poi quanti di voi eh si sentono davvero così diciamo in carcere a stare a casa quanti di voi stanno davvero così male da dire mio dio sto impazzendo è un periodo questo periodo passa poi sarà più bello incontrare le altre persone dal vivo sarà bellissimo e qua lancio un amo a massimo sarà bellissimo quando faremo una serata tipo un marketing talk di aism e saremo tutti insieme e questo brindisi lo faremo pintinnando sui bicchieri no che dici massimo faremo molti sarà ancora più bello ritrovarsi visto che tante io ogni tanto sento ah non sopporto la gente quante volte vi è capitato di dire non sopporto più nessuno non sopporto la gente guarda me ne andrei in una baita in montagna a quanti 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 di voi e quante volte l'avete detto nella vostra vita dipende dall'attività che si svolgeva prima personalmente non mi cambia molto questa è nona stanciu certamente oddio state scrivendo velocissimamente certamente un periodo pesante attenzione non usare pesante impregnativo ma dopo essermi disintossicata dal bombardamento mediatico sul covid sono rinata brava molto bene un'opportunità di crescita personale di ascolto di sé ottimo margherita è vero lo penso anch'io io vivo pieno lozio creativo grande alberto ogni tanto staccare fa bene vedi che ci sono delle motivazioni per andare a stimolare l'ormone dell'amore tra l'altro tutte e due vengono questi ormoni sono sprigionati dall'ipotalamo che ne può fare ne può creare uno solo per volta quindi se crea la di h non può creare l'ossitocina fatevi voi conti cosa è meglio delle due certo tenendo gli occhi aperti certo senza sottovalutare la situazione è chiaro questo perché perché purtroppo spesso ci facciamo trascinare dalla forza delle cattive abitudini che gestiscono il nostro stato d'animo a discapito invece delle buone abitudini che ci danno energia e forza io su questo ci lavoro sempre chiaramente a partire da cosa dalla nostra respirazione respira respira dal sorriso fisico anche se non c'è niente da ridere qualcuno potrebbe dire sì vabbè non c'è niente da ridere intanto inizia fisicamente muscolarmente facciamo la prova a sorriso ed è possibile generare attivamente buone emozioni sì perché sono alla base intanto perché le buone emozioni sono la base del successo professionale personale e professionale eccetera e la la cosa straordinaria che la gradevolezza che prova l'interlocutore a parlare con noi è direttamente proporzionale alla gradevolezza che proviamo noi per parlare con questa persona quindi se noi effettivamente iniziamo a sorridere iniziamo a a metterci in una modalità un po da di geradiofonico se vogliamo ci mettiamo in una modalità di apertura verso le altre persone anche con il corpo è incredibile come si creino dei collegamenti sinaptici che vanno davvero a modificare la chimica del nostro corpo e dopo qualche minuto un minuto due minuti avremo davvero quello stato d'animo più allegro più contento più entusiasta così come nel momento in cui vogliamo marci vogliamo creare un momento più empatico anche lì rallentiamo i nostri movimenti rallentiamo le parole delle quali parliamo addonciamo un sorriso è gravide perché si crea una situazione più calma più tranquilla e così via a seconda di come voglio stare io se non conosciamo bene gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione come avete visto sono strumenti fisici e come si vuole conoscere i tasti del pianoforte e non saperlo suonare allora tanto vale imparare decidere la musica che vogliamo suonare imparare a suonarla perché allora riusciremo a migliorare il feedback che abbiamo dalle altre persone a migliorare il modo in cui parliamo con le altre persone come smettendo di cercare continuamente conferme negli altri evitando di comunicare ansia insicurezza pregiudizio nervoso che allontanano il benessere psicofisico nostro e degli altri ma nella vita di tutti i giorni non solo adesso è sempre questa cosa qua tra l'altro inizialmente magari uno deve pensarci un attimo a modificare il proprio linguaggio il proprio atteggiamento ma poi diventa una piacevole abitudine e si fa molto più in fretta a far tutto mi viene in mente lavoro molto nell'azienda e questo capita spesso che magari tra colleghi succeda una cosa del genere se una persona chiede a un altro di fare un compito questo ogni volta glielo sbaglia alla fine basta guarda meglio se me faccio io da sola le cose perché ti faccio prima si può darsi che tu faccia prima ma ogni volta te lo dovrai fare non è meglio fermarsi un attimo e comprendere capire trasmettendo chiaramente positive e stabilità negli altri atteggiamenti positivi cordialità gioia fiducia assertività empatia passione chiedendo all'altra persona cosa non è chiaro in che modo posso aiutarla per riuscire a fare quel determinato compito ad esempio senza sbagliare così faccio meno fatica dopo magari faccio prima subito basta lo faccio da sola perché così faccio prima ma poi ogni volta così invece mi fermo un attimo miglioro poi il futuro ed è un po questo il messaggio che ho piacere di trasmettervi e in ogni caso prima di convincere l'intelletto occorre toccare il cuore come diceva Pasquale scusate dicevo all'inizio quando non avevamo ancora incominciato che ho la tosse da dicembre e come tutti gli inverni quindi portate pazienza se ogni tanto tossisco e quindi come sono le emozioni proprio quelle che vogliamo migliorare in noi stessi e negli altri sono innanzi tutti hanno detto l'incontrario di tutti sulle emozioni se fate una ricerca tanto avete tempo fatevi una ricerca sulle emozioni in internet scoprirete che è stato detto di tutto e di più e il contrario di tutto molti sono gli scienziati molti sono i filosofi molti sono gli studiosi molti sono i pensatori che hanno detto la loro sulle emozioni ma sono tutti abbastanza d'accordo sul fatto che ci siano quelle primarie o semplici ovvero quelle con cui nasciamo quelle che qualunque bambino ha perché sono innate sono universali sono istintuali li abbiamo tutti quanti anche perché ci sono anche in assenza di attività cognitiva hanno risposte fisiologiche come ad esempio le espressioni facciali e queste sono la gioia vediamo un bambino appena nato quando ride prova gioia tristezza se magari viene allontanato dalla mamma rabbia quando c'ha fame disgusto se gli diamo qualcosa da mangiare che non gli piace tanto la sorpresa anche la paura queste sono le emozioni primarie le emozioni secondarie o complesse invece implicano autocoscienza per cui sono legate all'apprendimento sono legate al folklore sono legate all'ambito sociale in cui viviamo quello che ci hanno insegnato i nostri genitori le nostre esperienze culturali e sono miste e complesse per esempio il senso di vergogna il senso di colpa l'orgoglio l'empatia la simpatia anche il rimpianto l'autorevolezza e qua arrivo a cosa significa riconoscere le emozioni dal punto di vista motivazionale sono positive ovvero suscitate da stimoli che danno piacere e qua ritorniamo a bomba sull'ossitocina e sulle parole che ci aiutano invece che parole distruttive oppure negative suscitate da stimoli che danno dispiacere possiamo anche suscitare negli altri piacere dando loro degli stimoli positivi o dispiacere dando loro degli stimoli negativi questa slide ha a che fare con le emozioni dal punto di vista neurologico perché siamo fatti così noi abbiamo una chimica interna non ci possiamo fare niente e il nostro cervello ha delle reazioni particolari a quello che gli accade quindi ogni nostro interlocutore avrà delle reazioni a seconda di come noi parliamo in particolar modo il cervello triuno di paul mclean che è stato uno studioso uno scienziato degli anni 70 è molto particolare in realtà poi la neuroscienza è andata assolutamente oltre questo discorso comunque ci piace la suddivisione del cervello in tre parti anche se occorrerebbe andare molto più in profondità su questo discorso ma noi serve sapere cosa? che la prima parte quella primordiale il cervello più antico è il cervello rettile il coccodrillo ed è puro istinto e sopravvivenza ovvero è legato a quelle emozioni ataviche che sono la fame la sete il sonno il sesso nel senso di procreazione e nel senso di continuazione della specie la difesa quindi appena noi ci avviciniamo a qualcuno appena qualcuno si avvicina a noi scatta il coccodrillo il rettile che dice attenzione cosa vuole farmi questo e quindi subito diffidente è come se avete presente i castelli medievali come se alzassero il ponte elevatoio e il re facesse uscire gli arcieri allora se noi riusciamo in prima battuta a tranquillizzare il cervello rettile magari appunto come dicevo prima con un sorriso con un atteggiamento di apertura non ti voglio far male non ti voglio far niente non voglio venderti niente allora lui si tranquillizza a quel punto possiamo andare a parlare al cervello limbico che diciamo è il secondo un pochino meno un pochino meno anziano un pochino meno primordiale del cervello rettile e cervello limbico racchiude tutte le emozioni tema limbico quindi emozioni come l'amore ma anche l'attaccamento la gioia e anche emozioni negative come ad esempio la gelosia l'empatia che invece è assolutamente positiva in ultimo c'è l'ultimo cervello l'ultimo nato che il cervello neocorticale ovvero quello che è legato al linguaggio il pensiero alla parola ovvero i calcoli le informazioni la ragione l'apprendimento i significati diciamo che è un po il commercialista di casa o il tecnico e pensa di decidere tutto lui in realtà decidono gli altri due proprio perché come dicevo prima prima di convincere prima di parlare all'intelletto occorre convincere gli altri due occorre convincere il cuore che sono cervello limbico e chiaramente cervello rettile in quanto istinto e sopravvivenza andando ancora più a fondo in quello che è la chimica grazie barbara andando ancora più a fondo in quello che è la chimica delle emozioni vediamo come gli ormoni ci possano portare al successo vi ho fatto prima due esempi particolari che mi serviva utilizzare in questo momento particolare comunque sappiate che gli ormoni sono delle sostanze che il nostro corpo secerne e azionano in noi sensazioni fisiche come il sonno la fame il dolore ma anche sensazioni emotive come amore fiducia come abbiamo visto gelosia invidia aggressività o anche autostima attrazione empatia e scelte comportamentali come la scelta degli alimenti la scelta del partner gli acquisti la genitorialità le reazioni allo stress quindi vuol dire che influenzano moltissimo il nostro metabolismo per questo ho iniziato questo webinar parlando di parlando delle reazioni fisiche e degli ormoni perché davvero influenzano tutte le nostre performance che siano professionali artistiche o sportive o relazionali visto che ci mancano tanto le relazioni in questo periodo proviamo a capire a pensare a quali ormoni riusciamo a stimolare nelle altre persone con il nostro modo di approcciarci e arriviamo agli antichi il titolo di questa serata esiste lo speech perfetto l'ho presentato come un modo divertente di vedere la retorica ho virato un po su delle cose che di sicura attualità ma vediamo quanto gli antichi la sapevano lunga già su questi argomenti per esempio di oggi ne diceva perché vivi se non ti curi di vivere bene oppure epiteto gli uomini sono agitati e turbati non dalle cose ma delle ma dalle opinioni che hanno delle cose di nuovo epiteto non è tanto ciò che ti accade ma come reagisci a ciò che ti accade quello conta Pitagora l'uomo è mortale a causa dei suoi timori è immortale a causa dei suoi desideri e poi ancora Aristotele siamo ciò che facciamo ripetutamente quindi significa che l'eccellenza non è un atto ma un'abitudine quindi andiamo verso l'eccellenza se siamo sempre agitati saremo ripetutamente agitati diventiamo quella cosa lì andiamo verso l'eccellenza in tutte le cose che facciamo sfruttiamo per esempio anche questo tempo per aumentare le nostre competenze migliorare noi stessi qualcuno prima diceva ho più tempo anche per stare con me stesso per migliorare per imparare delle cose fantastico questo è il modo migliore per utilizzare al meglio il nostro tempo e dalla retorica classica arriviamo a quello che è il public speaking Olivier Rebaud non so bene il francese correggetemi se l'ho sbagliato esiste una persuasione che non si ottiene né con il denaro e né con le minacce quella che concerne la retorica ora io dico se ci avessero detto che la retorica in realtà o i grandi filosofi dell'antichità erano i più grandi comunicatori e che la retorica ci sarebbe venuta in aiuto per fare uno speech coi fiocchi magari a scuola l'avremmo studiata con più attenzione l'avremmo studiata più volentieri ma non ce l'hanno detto in realtà proprio loro ci vengono in estremo aiuto a volte si dice ma come il retorico come retorica quella persona lì in realtà la retorica ad esempio in America il public speaking spesso viene chiamato retorica nell'accezione non moderna del termine ma nell'accezione anche quella antica quindi retorica public speaking o oppure public speaking e storytelling alla fine è la stessa cosa chiaro che quando percepiamo troppa ampollosità significa che stiamo assistendo a pessima retorica spesso la sentiamo oppure quando percepisci troppa autoreferenzialità io sono noi siamo i leader indiscussi del mondo sono noi io 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 quella è una pessima retorica quando percepiamo troppa vehemenza o troppa aggressività o tensione o in questo periodo ansia di nuovo significa che stiamo assistendo a pessima retorica invece quando un oratore ha a cuore il suo pubblico perché poi alla fine questo anche come attrice questa cosa qua lo capita tanto tanti anni fa un giorno dovevo fare uno spettacolo e mi è venuto un mal di stomaco un mal di stomaco tremendo e il mio pensiero era io adesso come faccio a fare questo spettacolo il teatro è pieno ci sono persone che hanno pagato un biglietto e loro hanno tutto il diritto di assistere a questo spettacolo eppure credetemi un mal di stomaco pazzesco beh devo dire che fino a quel momento vi parlo di una ventina d'anni fa quello è stato lo spettacolo migliore che mi sia venuto mai con tanto di applausi a scena aperta ero esterrefatta del risultato e quella volta lì e poi ci ho ancora ragionato ancora negli anni l'ho capito sempre di più ho capito che quella sera io non ero concentrata su di me sarò brava non sarò brava mi ricorderò non mi ricorderò le battute ero concentrata sul pubblico i veri protagonisti sono loro e ogni volta che parliamo i veri protagonisti sono le persone che ci ascoltano perché di nuovo è interazione non è solo comunicazione univoca e unilaterale quindi un oratore bravo cosa fa? utilizza una buona retorica il pubblico non se ne accorge neanche e il suo discorso invece di essere pomposo e gonfiato risulta vincente risulta seducente seducente nel senso che a sé conduce non solo seducente nel senso della seduzione che potete immaginare voi che comunque può servire anche per lui chiariamo un punto la parola persuasione soprattutto negli ultimi anni dove si sentono corsi di persuasione vendita e quant'altro sembra quasi una negatività in realtà non è una cosa brutta chiaro va utilizzata con estrema etica ed è validissima come strategia per ottenere consenso dalle persone per amalgamare il pubblico per coinvolgere le persone per portarle anche ad ascoltare la nostra idea e il nostro punto di vista in questo senso la persuasione è importante in effetti gli animali si servono della persuasione ovvero di segnali sonori come guaiti ringhi soffi come il gatto che soffia o anche fisici come inarchiare la schiena puntare le orecchie per segnalare un pericolo o avvertire di un attacco e persuadere tutti gli altri a fuggire o prepararsi allo scontro noi i genitori i genitori per persuadere i figli a studiare perché vogliono che abbiano un futuro migliore e promettono dei premi io mi ricordo se porti un bel voto allora ti lascio andare alla festa della tua amica mi ricordo non sono non sono ricatti sono modi per premiare per premiare il fatto di comportarsi bene lo utilizziamo tutti nei rapporti personali per persuadere qualcuno a uscire con noi ci mettiamo gli ingheri e anche tutti i grandi personaggi della storia sono stati dei grandissimi persuasori hanno saputo persuadere e cambiare il mondo persuadere le masse e cambiare il mondo ora qualcuno con intenti negativi per fortuna molti con intenti assolutamente positivi e per andare ancora dai nostri eroi dell'antichità l'arte della persuasione parte proprio da aristotele parte proprio dall'antica grecia dell'antica roma a partire dalle unità aristoteliche che erano di luogo di tempo e di azione vi ricorda qualcosa unità di luogo di tempo e di azione siamo nell'epoca delle serie televisive ogni serie televisiva che guardiamo su netflix per esempio a utilizza le unità aristoteliche e utilizza anche lo storytelling e utilizza tutti i fondamentali della retorica antica fino ad arrivare ai tre pilastri fondamentali che sono etos patos e logos che adesso vedremo perché io era un genio aristotele è riuscito a dare un contributo enorme all'arte della retorica e cicerone e quintegliano pure vediamo etos patos e logos e vedremo come si riunisce al discorso del cervello triuno di mclean etos per aristotele nel momento in cui si vuole fare un discorso pubblico nel momento in cui si vuole parlare con le persone comunicare qualcosa un'idea e convincere le altre persone essere persuasivi è importantissimo lavorare sull'ethos il carattere l'etica la credibilità l'affidabilità la reputazione è un po' la reputazione la difesa di sé del territorio raccontando cosa aneddoti personali storie di successo ma anche testimonianze meriti sempre evitando l'auto celebrazione poi patos entriamo nella sfera del del sistema limbico le pathos sono le emozioni senza le emozioni non andiamo avanti da nessuna parte sono quelle che ci muovono quindi passione coinvolgimento valori credenze parole evocative storytelling è infasi leve motivazionali emozionali e solo per ultimo il logos ovvero la neocorteccia la razionalità logica ragionamento realtà evidenza è chiaro che nel momento in cui parlo di un determinato argomento questo argomento dovrà essere avvalorato in qualche modo dalla realtà dall'evidenza con cosa con numeri ricerche fatti benefici dati procedure tecniche statistiche e cicerone quintigliano ci sono venuti ci vengono in aiuto anche nel nello spiegare le tre funzioni specifiche dello stile oratorio quindi secondo loro e vedrete come si avvicina tantissimo anche quello che facciamo tutti i giorni docere e probare ovvero informare l'uditorio con cosa con uno stile si chiama genus tenue o subtile ed è uno stile umilo umile semplice naturale senza tanti fronzoli sto informando non sto facendo sensazionalismo senza ampolosità esporre le argomentazioni in modo chiaro dimostrandone anche la fondatezza poi occorre tutto questo delectare con il genus medium ovvero catturare l'attenzione attraverso uno stile più vivace più robusto per rendere il discorso più dinamico divertente oppure serio o ironico a seconda dei casi allegro triste oppure empatico passionare insomma per evitare che le persone si addormentino dall'altra parte avere un vero fare in modo che il processo di comprensione vada avanti e poi muovere flectere ovvero commuovere patos vi ricordate commuovere il pubblico con uno stile nobile ma anche da un linguaggio linguaggio più ricco più ricercato evocativo eventualmente agendo di nuovo sulle emozioni parlando al cuore ancora prima che alla mente vi faccio un esempio di un'ottima retorica che di nuovo ci arriva dal passato la buona retorica vi dicevo sta nella capacità di identificare il pubblico e impostare un discorso appropriato tecnico teorico o passionale che sia scegliendo il modello più efficace ovvero quante volte vogliamo dire delle parliamo a delle persone e poi abbiamo l'impressione che questi non ci capiscono non ci capiscano in effetti l'unico vero solo responsabile dei miei risultati della mia comunicazione sono io siamo noi il primo quello che parla deve aver ben chiaro chi ha di fronte voi siete adesso stiamo siamo aism associazione italiana sviluppo marketing alla base del marketing c'è conosci i tuoi clienti e a grippa nel 494 avanti cristo questo l'aveva capito perfettamente lui fece questo discorso ai plebei in rivolta per persuaderli a tornare al lavoro e si domandò cosa si domandò i plebei che capiscono posso mica spiegare loro tutto quello che ruota intorno al governo a come funziona il governo romano e gli imperatori chiaramente no e allora cosa cosa capisce davvero il popolo il popolo capisce come funziona il corpo capisce il cibo il mangiare il popolo ha fame per questo era in rivolta e allora fece questo discorso facendo una una metafora ma grande un grande discorso utilizzando le parti del corpo umano e disse una volta le membra dell'uomo constatando che lo stomaco se ne stava ozioso ad attendere cibo ruppero con lui gli accordi e cospirarono tra loro decidendo che le mani non portassero cibo alla bocca né che portandolo la bocca lo accettasse e né che i denti lo confezionassero a dovere ma mentre intendevano domare lo stomaco a indebolirsi furono anche loro stesse e il corpo intero giunse a deperimento estremo di cui apparve che l'ufficio dello stomaco non è quello di un pigro ma che una volta accolti distribuisce i cibi a tutte le membra e quindi tornarono in amicizia con lui così senato e popolo come fossero un unico corpo con la discordia periscono con la concordia rimangono in salute è stato bravo è in effetti il popolo i plebei smisero di di essere in rivolta e ricominciarono il loro normale lavoro ora all'interno di questo racconto all'interno della retorica troviamo le figure retoriche troviamo le metafore che vi invito andare di nuovo a spulciare lo so che è materia di quando eravamo quando andavamo a scuola e ci sarebbe moltissimo da parlare io proseguirei almeno per altre due ore ma possiamo proseguire su questo discorso magari al prossimo webinar voglio tornare per poi andare a chiudere lasciarvi anche spazio per le domande al nostro discorso di prima allora come lo trasformiamo il discorso per i nostri collaboratori cosa possiamo dire per essere una guida forte propositiva cosa possiamo fare per essere un faro illuminante ma ripeto per i nostri collaboratori ma anche per le persone a cui vogliamo bene che ci circondano i nostri dal punto di vista business professionale i nostri clienti colleghi nostri capi anche i nostri dipendenti collaboratori e dal lato invece relazionale la nostra famiglia i nostri amici comunicare significa mettere in comune delle idee delle passioni delle parole e farlo con il cuore allora ho trasformato il nostro discorso l'ho anche colorato dove c'è una partenza sicuramente allegra questi sono i colori che derivano dal metodo for voice colors di ci l'ho imparato che aveva trovato il modo di abbinare le voci voci positiva emozioni positive che mi piacerà un giorno condividere con voi comunque il primo è un atteggiamento di apertura di essere contenti di incontrare via webcam via webinar i propri dipendenti poi un momento più dolce più empatico dove si va sulle emozioni sulla relazione sulla fiducia poi l'atteggiamento decisamente più energico più più se vogliamo assertivo per poi un invito all'azione rosso passione allora come diventa oh vi accolgo da casa con un caldo benvenuto e un sorriso a distanza come state siete in forma oggi ho l'occasione di parlare con tutti voi e a ognuno di voi cosa rara e preziosa nei momenti di ordinaria attività aziendale e sono pronto a rispondere a tutte le vostre domande ho scelto di incontrarvi online per dirvi che va tutto bene stiamo lavorando per superare al meglio questo periodo di sfida ogni viaggio inizia con un primo passo il nostro primo passo è semplice cooperare da casa grazie al lavoro di squadra e all'impegno di tutti una volta passato questo momento la nostra azienda sarà ancora più performante e preparata per il mercato usiamo questo tempo per aumentare le nostre competenze e andiamo avanti meglio no di quello di prima cosa dite top grazie anche qui chiaramente ho messo molta enfasi in questo discorso perché perché se voi vi allenate avete visto non ho usato nessuna parola negativa nessun frame negativo ho usato solo parole proattive attive positive di speranza di futuro di andare avanti di condivisione di coesione di lavoro di squadra ho usato anche delle delle figure retoriche ho usato anche delle ripetizioni per esempio ogni viaggio inizia con un primo passo il nostro primo passo è semplice perché questo va a rafforzare l'idea la parola semplice piace tantissimo al cervello perché a nessuno piacciono le cose difficili quindi la parola difficile difficoltà dimentichiamocela ho usato questi questo discorso anche più enfatico perché così se voi vi allenate chiaramente poi nella vita di tutti i giorni subentra un po' la timidezza un po' il decoro così e allora magari il vostro discorso diventa un pochino più limato allora abituiamoci a enfatizzare che così poi nella vita normale siamo ancora più performanti Maria Alessandra dice fantastico mi sarebbe piaciuto sentirmi fare questo discorso in questi giorni grazie anche a me anch'io avrei voluto più discorsi di questo genere dalla tv e dai media che non quello che sentiamo in tutte le cose è bene vedere il bicchiere mezzo pieno e sì perché noi siamo al 10 per cento ciò che ci accade al 90 per cento quello che reagiamo 90 per cento siamo il modo in cui reagiamo a quello che ci accade e quindi prima di passarvi la palla ho scritto per voi questa frase che scegli con cura le tue parole il modo in cui le dici perché determina il modo in cui stai e come fai stare gli altri e stare bene significa aumentare la qualità della vita e sorridi che è tutto molto più semplice intanto io ringrazio Elena ringrazio tutti voi che siete stati presenti anche oltre ben oltre l'orario previsto in questa tarda ora ma vi invito ad andare sul sito per verificare anche gli altri webinar che a tambur battente stiamo promuovendo su questo canale e quindi andate sul sito seguitici sui social ci farebbe piacere ovviamente avere anche da parte vostra commenti suggerimenti a sotto sicuramente ci farebbe piacere avervi con noi Elena grazie grazie a tutti e ci vediamo spero presto buonanotte grazie a voi grazie grazie Elena grazie ciao Roberta ciao grazie a voi 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 grazie a voi